Mafia di bagheria, sequestrati beni per un milione di euro agli eredi dell'imprenditore Salvatore Buttitta. Il provvedimento scaturisce dal decreto del 2011, sigilli ad immobili e conti correnti. Truffe della benzina, un impianto sequestrato e raffiche di multa a Palermo, riscontrate colonnine manomesse, gasolio di scarsa qualità e vendite in nero, ispezionati 15 distributori di carburante. Molino Soresi, appartinico intrappolato dalla burocrazia fumata nera per il recupero, poche soluzioni perché mancano i fondi, promossa l'idea di istituire un non teatro e museo. Sara Cineschi alzate domenica e festivi sino a fine anno ad Alcamo. Il sindaco dà l'ok all'apertura straordinaria dei negozi, ad Alcamo Marina, locali in attività sino a luna di notte. Domani festa della Repubblica, Castellamare del Golfo, cambio di programma, niente sfilata delle bande, raccolta fondi per i terremotati, confermato l'arrivo della carovane antimafia. Buonasera, ben trovati con l'informazione di TV7, apriamo il telegiornale con la cronaca, lo dicevamo nel sommario di apertura. Mafia di Bagheria, sequestrati beni per un milione di euro agli eredi dell'imprenditore Salvatore Buttitta, gli altri particolari nel servizio. I carabinieri di Monreale hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti degli eredi di Salvatore Buttitta, imprenditore di Bagheria noto come il re delle cave, deceduto il 12 agosto del 2008. La misura segue le indagini coordinate dalla Procura del capologo siciliano e sequestri già operati nei confronti dell'imprenditore. nonostante l'assoluzione in primo grado in un processo legato ad indagini sul clan mafioso di Etrabia, vengono adesso colpiti bene anche in capo agli eredi. Si tratta di un appartamento di 30 terreni agricoli nei comuni di Bagheria, Polizia Generosa, Santa Cristina Gela, Bolognetta, Altavilla Milice e Termini Imerese per un valore complessivo di circa un milione di euro. La misura, che prende spunto da un preciso decreto legislativo dello scorso anno, è scaturita a seguito di lunghe e complesse indagini coordinate dalla Procura e sono il proseguo dell'operazione scattata a suo tempo con i relativi sequesti allo stesso imprenditore. Buttitta fu il primo caso in Italia con l'applicazione della misura preventiva a seguito del suo decesso. La normativa è quella prevista dal cosiddetto pacchetto sicurezza che prevedeva il sequestro anche nei confronti degli eredi. Il decreto di sequestro è il risultato da un lato dell'attività investigativa legata alla cattura dell'ex latitante Salvatore Rinella, capo del mandamento mafioso di Trabbia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e dall'altro dalle successive ordinanze di custodia cautelare emesse il 16 febbraio 2006 quando fu smantellata la cosca della cittadina della provincia palermitana con 12 arresti di affiliati e favoreggiatori. Il sequestro è l'esemplificazione del sistema parallelo del doppio binario. Nonostante l'assoluzione in primo grado vengono colpiti beni anche in capo agli eredi dal sistema legislativo previsto per le misure di prevenzione. Sulla base di un processo indiziario presunto da quelle investigazioni, nonché sulla base della sproporzione tra i redditi dichiarati e l'ingentissimo patrimonio immobiliare posseduto da Buttitta, il tribunale ha disposto il sequestro dei beni. Paolo Borsellino sapeva della trattativa tra Stato e mafia. La conferma al processo Mori da parte del pentito palermitano Mutolo. Il giudice però si era opposto. Il giudice Paolo Borsellino sapeva della trattativa tra Stato e mafia dopo la strage di Capaci del 92. L'ipotesi investigativa dei magistrati di Palermo e di Caltanissetta che indagano sulla cosiddetta trattativa per fare terminare la strategia staggista adesso viene confermato anche dal pentito di mafia, Gaspare Mutolo. Interrogato oggi al processo Mori in corso a Palermo, il collaboratore di giustizia collegato in videoconferenza ha ricordato uno sfogo del magistrato pochi giorni prima di morire nella strage di Via D'Amelio. Ricordo che durante un interrogatorio il dottor Borsellino racconta mentre parlava con delle persone delle istituzioni nel corridoio gridò all'improvviso questi sono dei pazzi, questi sono dei matti. Era disgustato e arrabbiato, era incazzato nero con personaggi dello Stato e delle istituzioni perché volevano offrire ai mafiosi un'eventuale dissociazione. Sapeva che c'erano questi contatti in corso, c'erano persone delle istituzioni che avevano fatto capire di essere d'accordo. Ho capito che c'era un accordo tra i mafiosi che si dovevano dissociare in cambio di una specie di amnistia. Lo stesso pentito racconta ancora al PM Antonio Di Matteo che deve sollecitare spesso i ricordi del collaboratore di avere detto al giudice Borsellino che la mafia ha sempre fatto trattative con lo Stato. La mafia ha sempre raggiunto accordi con lo Stato. Nel corso della seduta il pentito di mafia ha ricordato l'interrogatorio del 1 luglio 92 con il giudice Paolo Borsellino a Roma, 18 giorni prima di essere ucciso nella strage di Via D'Amelio. Quel giorno durante il colloquio, spiega Mutol, il dottor Borsellino ricevette una telefonata dal Ministero dell'Interno e mi disse che doveva andare al Ministero e che sarebbe tornato di lì a poco. Il 1 luglio del 92 si insediò l'allora Ministro dell'Interno Nicola Mancino, ma l'ex capo del Viminale interrogato dalla Procura di Palermo sostiene di non ricordare di aver incontrato quel giorno Borsellino o di avergli al massimo stretto la mano. Riguardo poi specificatamente al generale Mario Mori sotto processo a Palermo per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra nel 92 dopo la strage di Capaci, Mutol ha detto veniva a Palermo per parlare con delle persone importanti, non per forza latitanti con cui aveva intavolato una trattativa, aveva contatti con Cosa Nostra per trattare. Truffa della benzina, un impianto sequestrato e raffica di multe a Palermo, riscontrate colonnine manomesse, gasolio di scarsa qualità e vendite in nero. Ispezionati 15 distributore di carburante. Sentiamo gli altri particolari. Un distributore sequestrato, il titolare denunciato per frode in commercio e uso di misure con falsa impronta. Sanzioni per 70 mila euro ai proprietari di otto distributori, di cui tre per erogazione di carburante fuori dagli orari di apertura, due per vendite di prodotto in nero con un'evasione di accisa per oltre 3.300 euro e IVA non versata per circa 22.000 euro. Queste alcune delle sanzioni contestate dalla Guardia di Finanza nel corso di una serie di specifici controlli effettuati a Palermo. Nel distributore sequestrato è stato rilevato che le colonnine erano state manomesse con un congegno elettronico, in modo da erogare il 10% in meno del carburante segnato sul display e pagato dal cliente. La scoperta della frode ha preso le mosse dal riscontro della manomissione dei piombi, a suo tempo apposti dal locale ufficio metrico della Camera di Commercio sulle colonnine. Ad un esame tecnico più approfondito è emerso che un abusivo allacciamento elettrico poneva in collegamento il meccanismo di erogazione installato all'interno della colonnina con il quadro elettrico generale, dove a sua volta è stata individuata una sofisticata apparecchiatura elettronica, tecnicamente denominata scheda moltiplicatrice di impulsi, azionata da apposito interruttore, anch'esso installato nel quadro elettrico generale. Effettuate diverse prove di erogazione con l'interruttore spento e poi azionato, le fiamme gialle hanno appurato che il sistema permetteva, con l'interruttore acceso, di alterare il meccanismo di erogazione delle colonnine, in modo da effettuare ciascun rifornimento in misura inferiore rispetto a quanto indicato dalla testata contometrica. In altri due impianti, dopo l'analisi di laboratorio eseguita dall'Agenzia delle Dogane, è stata riscontrata invece la vendita di carburanti qualitativamente non conformi alla normativa vigente. In uno, il gasolio conteneva per oltre il 30% olio non minerale e dunque non eredone o per uso di autotrazione. Nel secondo era miscellato con sostanze bassobollenti al limitato grado di infiammabilità. I due gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione e utilizzazione di prodotti ottenuti da miscelazioni non autorizzate e frode nell'esercizio del commercio. 11 orologi, mille paia di occhiali e 3.000 etichette recanti marchi contraffatti sono stati sequestrati nell'ambito dei controlli effettuati dai funzionari dell'ufficio delle Dogane di Palermo con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. La merce, la cui contraffazione è stata confermata dai periti delle società titolari dei marchi, è stata trovata all'interno dei bagagli di un non passeggero appena sbarcato dalla motonave proveniente da Napoli. Tonno Rosso, altro maxisequestro nel Palermitano, blizze della Capitaneria questa notte a Balestrate, trovato pesce per oltre 1.800 kg a bordo di due pescherecci. Sentiamo. Ancora sequestri di Tonno Rosso nella provincia palermitana. Questa mattina blizza al porto di Balestrate da parte dell'ufficio circondareale marittimo di Terrasini in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Palermo. Nel cuore della notte la guardia costiera ha sorpreso due pescherecci provenienti da Porticello con all'interno una grande quantità di Tonno Rosso. Complessivamente sono stati trovati 12 tonni detenuti illegalmente del peso complessivamente di 1.800 kg. Il pesce era stato pescato dalle due imbarcazioni senza lo speciale permesso necessario per lo svolgimento di tale attività ittica. A seguito dell'operazione sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro. I tonni invece sono stati sequestrati e messi in vendita. Gli introiti saranno confiscati e ovviamente messi nelle casse dello Stato. Inoltre sono stati messi sigilli anche agli attrezzi di pesca usati dai pescherecci per l'esattezza due palangari, lenza di grosso diametro con diverse diramazioni di ami per l'esca. Sono state elevate anche pene accessorie con la decurtazione di punti sulla licenza di pesca degli armatori dei pescherecci e sul titolo professionale dei comandanti delle imbarcazioni stesse. Coinvolte nell'operazione anche pattuglie della polizia di Palermo e Partinico e dei carabinieri, sempre di Partinico. Il commercio illegale di tonno rosso, oltre a provocare una diminuzione dello stocchittico, comporta anche il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici, nonché palesi violazioni in materia igienico-sanitaria, evasione fiscale e danno economico agli operatori della pesca che svolgono le attività di pesca del tonno rosso nel rispetto delle regole. Appena tre giorni fa un altro maxi sequestro era stato effettuato, sempre nel Palermitano, per 7.500 kg di tonno rosso, per un valore complessivo superiore a 60.000 euro, e facendo ancora un passo indietro altri mille chili di tonno rosso sono stati sequestrati a Cefalù. Parliamo adesso di Partinico, del Molino Soresi, una struttura intrappolata dalla burocrazia, fumata nera per il recupero. Poche soluzioni perché mancano i fondi, promossa l'idea di istituire un non teatro e museo. Questa mattina se ne è parlato nel corso di una conferenza stampa. Sentiamo. Molino Soresi intrappolato nelle maglie della burocrazia, difficile ad oggi la prospettiva di recuperare e rifunzionalizzare allo storico edificio di Partinico. Fumata nera questa mattina l'incontro avuto tra il Comitato per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e l'amministrazione comunale. L'appuntamento organizzato al Palazzo dei Carmelitani, disertato dalla cittadinanza, era stato promosso con l'obiettivo di trovare delle soluzioni concrete per riattivare quel percorso di recupero dell'immobile che si trova nel cuore del centro storico. Ad oggi però non sembrano esserci immediata soluzioni. La sensazione che sto ricevendo invece è che siamo ancora una volta all'anno zero e non mi pare che nel breve periodo ci possano essere delle soluzioni. Oggi, devo dire, diverse iniziative si sono fatte e ogni volta c'è sempre qualche proposta diversa. Ora bisogna anche da parte degli interessati in prima persona avere le idee chiare di quello che si vuole fare e sedesse attorno a un tavolo sia la politica locale sia anche quella provinciale e vedere come recuperare questa struttura che possa diventare uno strumento importante per il Comune di Partinico. Il Molino Soresi è chiuso ormai da lontano 1990 quando l'azienda che lo gestiva andò in fallimento. Inizialmente sembrava che una soluzione ci fosse, tanto che la provincia era interessata a realizzare una scuola. Si ottenne la variante urbanistica per dare all'immobile una destinazione ad uso scolastico della struttura ma poi improvvisamente tutto si è arenato. La provincia non ha più la disponibilità finanziaria per acquisire l'immobile ma intanto sembrano esserci poche altre soluzioni alternative rispetto a quella di destinare l'ex Molino a scuola. Altri utilizzi della struttura oggi pensiamo che non ce ne siano vista la penuria anche di ambienti scolastici in zona e che siano all'interno del tessuto di Partinico. Consideriamo che questa struttura ha circa 4.500 metri quadri di superficie calpestabile. Diciamo che ci sono poche strutture oggi che dispongono di tutto questo spazio. Ultima razio potrebbe essere sfruttata come museo e in questo dovrebbe intervenire il comune ma lei sa perfettamente che le cose comunali non dispongono di queste somme potrebbe essere sfruttato come teatro si potrebbe sfruttare come museo e teatro contemporaneamente perché questi locali sono immensi. E' stato fatto presente che anzitutto si deve assolutamente convocare un incontro che mette insieme amministrazione comunale, consiglio comunale, provincia e regione in modo da realizzare un progetto unitario che sia in grado di attrarre finanziamenti europei. Nel corso dell'incontro sono state formulate diverse proposte. Parliamo adesso di rifiuti. È stato fissato per lunedì prossimo l'incontro in prefettura con i sindaci dei comprensori del Partinicese e del Carinese. Si spera di evitare l'ennesima emergenza. Sentiamo. Adesso è ufficiale. Lunedì prossimo i 12 sindaci che fanno parte del lato rifiuti Palermo 1 incontreranno il prefetto di Palermo con l'obiettivo di scongiurare l'ennesima emergenza sul territorio prospettata dalla stessa società d'ambito a partire dal prossimo 7 giugno per via della carenza finanziaria in cui versa lente. Questa mattina i sindaci dei comprensori del Partinicese e del Carinese hanno fatto presente con una nota ufficiale la loro drammatica situazione finanziaria dovuta al fatto che la Regione non ha ancora trasferito i fondi relativi alla prima trimestralità del 2012. Questo ha comportato di conseguenza l'impossibilità per gli enti locali di liquidare le spettanze mensili al lato. Insomma, la situazione è abbastanza ingarbugliata e non sembrano esserci immediate soluzioni all'orizzonte per scongiurare l'ennesima emergenza rifiuti. I sindaci si augurano che dall'incontro con il prefetto possano essere prese delle contromisure tali dal punto di vista dell'autorevolezza istituzionale per evitare il blocco del servizio di raccolta e smaltimento dell'immondizia. Nel frattempo si pensa anche a fronteggiare altre problematiche di tipo ambientale. Proprio questa mattina al comune di Partinico si è stabilito un cronoprogramma di interventi tra lato, il settore ambiente e il settore verde pubblico per la discerbatura e la rimozione di rifiuti nel perimetro urbano. Le strade sono parecchio infestate di erbacce miste a rifiuti e allora abbiamo raggiunto con i vertici del lato una unità di intenti ognuno per la propria parte e per la propria competenza abbiamo calendarizzato già dalla prossima settimana una serie di interventi sul territorio e faremo quindi una pulizia straordinaria delle strade del nostro territorio compreso le periferie. L'idea di intervento qual è? Si parte dal centro storico per poi allargarsi alle periferie? Quale sarà questa idea di intervento? Le ascerbature del centro storico devo dire che è una cosa di piccola entità rappresentava il collega al verde pubblico però le periferie hanno maggiore bisogno e quindi saranno attenzionate prevalentemente le periferie per poi concentrarsi sino al cuore della città. Sulle strade di Palermo 50 vigili urbani in più controlli serrati a Mondello, a Sferra Cavallo e nei mercatini successo nella lotta alla doppia e tripla fila con l'ausilio di telecamere in un mese 3.500 sanzioni Sentiamo Massiccio di spiegamento di vigili urbani a Palermo con un'accelerazione in questi ultimi giorni sul fronte del controllo della viabilità ci sono in strada 50 vigili in più della viabilità quotidiana e della vivibilità di Palermo si occupano adesso 450 agenti a chiedere un aumento della presenza di uomini in divisa e maggiore attivismo nei controlli e nei presidi del centro e delle periferie era stato il sindaco Leo Luca Orlando Potenziare il controllo del traffico e quindi intensificare i regimi sanzionatori era un'esigenza all'Espressor Sindaco chi ha la delega alla Polizia Municipale dice l'assessore alla mobilità Tullio Giuffre ma i problemi risolti del traffico sono tanti acuiti dalle difficoltà dell'azienda municipalizzata ai trasporti e dal fatto che provvedimenti come il piano urbano del traffico non sono ancora operativi i 50 agenti dirottati in mezzo alle auto per sovraintendere al traffico hanno lasciato incarichi come la rimozione di auto abbandonate o per ruoli di polizia giudiziaria secondo il comandante dei vigili urbani Seraphino Di Peri il traffico, pur essendo sempre un'emergenza non è più il problema numero uno di Palermo i 450 uomini inviati per strada sono divisi in tre turni il sindaco ci ha invitati a intensificare i controlli e noi lo abbiamo già fatto a partire da lunedì spedendoli dove la loro presenza è più sguarnita lo decideremo in base alle esigenze che riscontreremo a Mondello e a Sferracavallo ad esempio i controlli saranno potenziati dal venerdì alla domenica aggiunge Di Peri ma la carenza del personale resta lo stesso Di Peri evidenzia inoltre che con lo street control la guerra contro la doppia fila attraverso i monitor installati a bordo delle macchine dei vigili che grazie a una videocamera immortalano i trasgressori si stanno già raccogliendo i primi frutti le multe stanno arrivando in questi giorni dopo 35 giorni dall'attivazione del servizio e sono davvero un deterrente notevole con quattro pattuglie, aggiunge Di Peri riusciamo a fare il lavoro che prima svolgevano 12 pattuglie solo ieri nell'asse viale Alcide dei Gasperi piazza di Odorosicolo in quattro ore sono state elevate 250 multe in 30 giorni siamo arrivati a quota 3500 multe dicono dal comando di polizia municipale sul sito del comune di Palermo è pubblicato l'elenco delle strade in cui passano le pattuglie la nuova amministrazione annuncia che non concederà più autorizzazioni per l'installazione di gazebo nelle quattro piazze già individuate cioè Politeama, Croci, Bellini e Massimo dove vigerà il divieto assoluto Sara Cinesche alzate, domenica e festivi sino a fine anno ad Alcamo il sindaco dà l'ok all'apertura straordinaria dei negozi ad Alcamo Marina, locali in attività sino a luna di notte negozi aperti, domenica e festivi a partire dal 3 giugno ad Alcamo e sino a fine anno questa è la decisione presa dal comune il neosindaco della cittadina Sebastiano Bonventra ha emanato un'ordinanza che fissa nuovi criteri in deroga al calendario di inizio anno che era stato invece fissato di concerto tra i commercianti e l'amministrazione comunale il settore promozione economica e servizi ambientali del comune di Alcamo ha proposto il provvedimento in seguito all'istanza presentata dalla Confcommercio a sua volta gli uffici hanno diramato l'informativa a tutte le altre organizzazioni di categorie e quindi Confesercenti, Cidec, Cisl, Cigel, Willa di Consum, Adoc, Acai, Acas, Federcom, Noi Consumatori e Feder Consumatori a cui è stato chiesto un parere con il metodo del silenzio assenso alla data limite fissata dal comune del 30 maggio scorso nessuno dei sindacati ha presentato formale opposizione motivo per cui è scattata automaticamente la deroga in pratica da oggi gli esercizi commerciali al dettaglio su area privata potranno derogare gli obblighi di chiusura domenicale festiva fino al 31 dicembre prossimo per quanto concerne specificatamente la zona di Alcamo Marina tutte le attività commerciali potranno restare aperte sino a settembre non solo per le domeniche festivi ma anche sino a tardanotte ovviamente nella sua ordinanza il primo cittadino ha specificato che sono fatti salvi in ogni caso i diritti dei lavoratori del settore commercio secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in particolare per quel che concerne il riposo infrasettimanale l'eserciente inoltre è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio negozio mediante cartelli o altri mezzi di informazione il provvedimento scaturisce essenzialmente dall'esigenza rappresentata dalle organizzazioni di categoria dei commercianti di poter tenere aperte le saracinesche anche le domeniche e i festivi dal momento che ad Alcamo è previsto l'arrivo della solita ondata di turisti essendo una cittadina balneare ma più che altro in città le domeniche con i negozi aperti saranno quelle successive all'inizio dei saldi estivi con sconti che fanno gol a tutti i consumatori discorso diverso invece per Alcamo Marina dove le attività sicuramente aderiranno all'apertura straordinaria domenicale e notturna assegnate con un'apposita determina dal neosindaco Pino Vitale le deleghe agli assessori a Sebastiano Russo nominato vice sindaco sono state attribuite le deleghe alle attività produttive bilancio e rapporti con lato ad Agata Gaglio invece vanno lo sport, turismo e spettacolo programmazione e politiche giovanili a Max Guarisco sono state assegnate ambiente e territorio e arredo urbano infine Jessica Lafata prende in carico le deleghe ai servizi sociali pubblica istruzione, cultura e viabilità e adesso parliamo dei precari degli enti locali si parla in questi giorni della stabilizzazione di tante iniziative soprattutto del Lanci Sicilia e dei sindacati il sindaco di Partirico Salvo Lobiundo questa mattina ha incontrato i precari per fare il punto sulla situazione cercheremo di convincere fondamentalmente facendo capire a Monti che non è un problema di assistenzialismo del nord nei confronti del sud e della Sicilia ma è prettamente un problema giuridico noi chiediamo l'addero a alcune norme nazionali per quanto riguarda le assunzioni all'interno dei comuni che c'è un blocco delle assunzioni anche per la disponibilità dei posti in pianta organica anche per la possibilità di assumere solo il 20% del personale che va in pensione all'anno precedente quindi capite benissimo che non si può assumere assolutamente mantenendo questi principi e poi noi come sindaci abbiamo adottato una logica a sostegno dei contattisti non abbiamo assunto nessuno perché potevamo tranquillamente assumere altra gente da fuori però venivamo a quel principio di stima e di collaborazione che c'è stato con i contrattisti noi abbiamo bozzato come Anci essendo io vicepresidente regionale dell'Anci con il presidente dell'Anci Giacomo Scala e con Mario Albano che è il segretario dell'Anci un documento che si unificherà con quello delle organizzazioni sindacali che in questo sono stati pure pressanti con i vari incontri che abbiamo avuto sia con la delegazione regionale dei partiti politici quindi presenti all'Assemblea e al Governo nazionale per presentarlo poi giorno 6 perché noi tramite l'Anci nazionale abbiamo inchiesto un tavolo tecnico al Governo nazionale per far capire queste motivazioni che non è un problema di assistenzialismo ma è un problema giuridico il problema finanziario lo risolviamo nella nostra terra è stato fissato per il 18 luglio davanti alla terza sezione della Corte di Appello di Palermo il nuovo processo a carico del senatore del PDL Marcello Dell'Utri accusato di concorso esterno in associazione mafiosa la data è stata stabilita in tempi celeri dopo che la Cassazione nel marzo scorso aveva annullato la condanna a 7 anni subita da Dell'Utri nel primo processo l'accusa sarà rappresentata dal PG Luigi Patronaggio lo stesso del processo d'appello all'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro mentre la Corte sarà preseduta da Raimondo Loforti giudici all'Atre Mario Conte e Daniela Troia ritorniamo a parlare di Partinico pensate era inutilizzata e chiusa da oltre 10 anni la palestra dell'istituto La Fata questa mattina è stata inaugurata i lavori sono stati fatti in economia con poche migliaia di euro dall'amministrazione comunale sull'argomento abbiamo raccolto le dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici Pantaleo diciamo che la palestra del tenente La Fata era uno dei nostri impegni perché nel momento in cui noi ci siamo insediati abbiamo subito affrontato la problematica e devo dire che grazie alla convergenza tra le istituzioni scolastiche quindi il dirigente, il presidente Bosco l'ingegnere D'Asalo, il comune di Partinico l'architetto Rizzo e i genitori del tenente La Fata quindi la rappresentanza dei genitori siamo riusciti come amministrazione a poter dare quello che rappresenta il fiore all'occhiello da tanti anni abbandonato facendo delle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie la tinteggiatura, il ripristino del quadro elettrico il ripristino dei bagni, l'intonaco e ottenendo non solo dal punto di vista logistico e materiale un risultato che è quello di aver aperto la palestra ma di poter mettere in moto quelle azioni per avere l'agibilità cosa che verrà ottenuta avendo fatto la voltura catastale la settimana prossima verrà formalizzato e avere anche l'agibilità grazie al fatto che noi stiamo ripristinando per un importo di circa 60.000 euro la caldaia adeguando all'impianto di riscaldamento a norma da gasoli a metano questo ci permetterà di avere anche le certificazioni per quanto riguarda i vigili del fuoco non solo della palestra ma dell'intero plesso scolastico la scuola Mirto di Partinico ha organizzato questa mattina la diciottesima edizione di Das Vidania Day una manifestazione incentrata interamente sulla solidarietà sentiamo diciottesima edizione del Das Vidania Day questa mattina alla scuola Mirto di Partinico tra fiere e spettacoli, forte e legame con la solidarietà e su questo filo conduttore si è portata avanti la diciottesima edizione dell'evento organizzato dall'associazione Aiutiamolo a Vivere che è portavanti iniziativa a favore delle comunità bielorusse ed africane nell'atrio dell'istituto fondato dal sociologo Danilo Dolci è stata data vita alla tradizionale fiera dell'artigianato con stand di decoupage, creatività e libri nel contempo sia all'esterno che all'interno della scuola sono andati di scena spettacoli realizzati dalle varie classi nel corso dell'attività formativa di quest'anno già tantissimi progetti portati avanti in questi 18 anni dall'associazione sono stati realizzati in Bielorussia una scuola fabbrica, delle serre per coltivare ortaggi uno studio dentistico e persino degli ospedali in Africa quest'anno il ricavato della fiera avrà un obiettivo più sobrio ma comunque altrettanto importante abbiamo l'impegno di aiutare le famiglie ad accogliere e sostenere economicamente nell'accoglienza dei bambini bielorussi perché il costo per far venire i bambini qui è notevole bisogna pagare un po' tutto il volo aereo, l'assicurazione, i vari documenti e così via per cui pensare sulle famiglie oltre al mese di accoglienza diventa abbastanza oneroso e allora ci siamo previstati con il ricavato di questa giornata di solidarietà di contribuire alle spese per l'accoglienza abbiamo notato che c'è la risposta da parte del territorio il territorio vuole questa manifestazione vuole essere presente attraverso tutte le componenti dall'amministrazione comunale alle famiglie che devo dire sono state vicinissime alla scuola e che stanno materialmente lavorando e moralmente supportando l'attività dei docenti gli investigatori hanno pochissimi dubbi è passionale il momento del tentato omicidio di Giuseppe Toia titolare della concessionaria Isola Auto ferito gravemente a Isola delle Femmine le indagini dei carabinieri della compagnia di Carini si concentrano su quanto accaduto qualche sera prima che l'imprenditore venisse ferito alle spalle Toia, 39 anni, da qualche tempo frequentava una ragazza di Isola che evidentemente doveva piacere a qualcun altro una sera erano usciti con una coppia di amici arrivano al ristorante e chi vi trovano? l'amico della ragazza al centro della contesa sarebbero volate parole grosse poi dalle parole ai fatti una sera l'imprenditore è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena mentre stava per salire sulla sua auto in via Parermo Toia, trasportato all'ospedale Cervello è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico secondo i carabinieri il ferimento e quanto accaduto al ristorante sarebbero collegati c'è però un altro elemento tenuto sotto osservazione la ragazza apparterebbe ad una famiglia che annovera pezzi da 90 della criminalità organizzata la notizia è stata diffusa dal giornale online live Sicilia è partita la macchina dei lavori per rifare il look al comune di Giardinello una nuova amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade e negli spazi verdi del paese questa mattina sotto la direzione dell'assessore Giuseppe Galati gli operai di una ditta specializzata hanno completato la potatura degli alberi in via Falcone la strada che conduce alla scuola media Manzoni l'intervento ha interessato anche l'anfiteatro comunale con la pulizia pure della fontana centrale trasformata nel tempo in un immondezzaio tagliate le fronde che ostacolavano la camminata tra i viali la pulizia straordinaria dice l'assessore Galati proseguirà in tutto il territorio comunale interesserà anche piccoli interventi di manutenzione alle caditoie e ai marciapiedi sconnessi domani 2 giugno festa della Repubblica a Castellamare del Golfo cambio di programma niente sfilata delle bande raccolta di fondi per i terremotati confermato l'arrivo della carovana antimafia con il marasma del terremoto al nord le polemiche attorno ai costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni e dallo Stato per i festeggiamenti del 2 giugno ritenuti superflui in un momento così tragico dal punto di vista finanziario il comune di Castellamare del Golfo decide di scegliere la linea sobria non ci saranno i giochi per adulti e le sfilate delle bande musicali per le vie cittadine che invece suoneranno all'Arena delle Rose dove saranno raccolti fondi per le popolazioni dell'Emilia colpite dal recente terremoto l'amministrazione comunale Castellamarese ha deciso di cambiare il programma inizialmente previsto per domani 2 giugno festa della Repubblica di concerto con le associazioni partecipanti per testimoniare vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma l'associazione genitori di buona volontà aveva previsto dalle 14.30 alle 22 e ai quattro canti la seconda giornata dimostrativa di giochi popolari a Muninni, Fora e Ucari annullati i giochi rivolti agli adulti poiché i tradizionali giochi quali la Cursa con i Carrettetti li Pippi, l'Utturtulune l'Uyoku di Liciappetti e tanti altri saranno svolti dai bambini nel pomeriggio sono state annullate le sfilate per le vie cittadine e l'incontro davanti al Palazzo Municipale di tutte le bande musicali Marcellina, Buseto Palizzolo Custonaci, Gibellina e Valderice partecipanti al sesto raduno bandistico organizzato dall'associazione e banda musicale Città di Castellammare del Golfo poiché era stato previsto anche il gemellaggio con la banda musicale di Marcellina in provincia di Roma le bande musicali suoneranno in serata all'Arena delle Rose dove sarà promossa una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto quindi il programma del presidio comunale per Santi Mattarella di Libera e Castello Libero alle ore 17 il passaggio della carovana antimafia e al Teatro Apollo conferenza sul tema mafia appalti pubblici etica delle professioni per un sviluppo locale credibile alle 19.30 in corso Garibaldi Basso degustazione di prodotti provenienti da aziende che operano sui beni confiscati alle mafie alle ore 23 sempre in corso Garibaldi concerto con in capo Divana Speranza Nkatu Zaziz e continuiamo a parlare del 2 giugno della festa della Repubblica vediamo un non servizio che sulla festa ha realizzato la collega Francesca Currieri La festa della Repubblica italiana viene celebrata il 2 giugno a ricordo della nascita della Repubblica Il 2 e il 3 giugno 1946 si tenne infatti il referendum istituzionale indetto a suffraggio universale con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo monarchia o repubblica dare al paese in seguito alla caduta del fascismo e lei più bella del solito invece a Parì ama la pena ho frenato l'impulso del cuore perché doveva finire così 2 giugno 1946 nasce la Repubblica e nasce nel modo meno traumatico possibile attraverso il voto popolare l'Italia sceglie sono gli elettori a scrivere la parola fine alla storia dello stato nazionale retto dalla monarchia sabauda una storia certo non lunga irta di avvenimenti memorabili e di veri drammi l'unità nazionale raggiunta con il risorgimento ha superato molte prove è stata vissuta l'esperienza di due guerre mondiali e per più di 20 anni vi è stato il peso di una dittatura con la Repubblica non vi sono i salti nel buio che qualcuno paventava non si verificano contraccolpi tali da lasciare profonde cicatrici nel corpo della nazione il cambiamento è vissuto quasi alla stregua di un evento naturale l'assemblea costituente eletta il 2 giugno contemporaneamente al voto per la Repubblica diventa il luogo dove il nuovo potere democratico si legittima in modo pieno bisogna scrivere la Costituzione legge suprema dello Stato La Repubblica sorge come la casa di tutti Prima della fondazione della Repubblica la festa nazionale italiana era la prima domenica di giugno festa dello statuto Albertino con la legge 5 marzo del 1977 numero 54 soprattutto a causa della congiuntura economica sfavorevole la festa della Repubblica fu spostata alla prima domenica di giugno solamente nel 2001 su impulso dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi il secondo governo amato con la legge numero 336 del 20 novembre del 2000 riportò le celebrazioni al 2 giugno che quindi tornò ad essere un giorno festivo nel giugno del 1948 per la prima volta in via dei fori imperiali a Roma ospitò la parata militare in onore della Repubblica l'anno seguente con l'ingresso dell'Italia nella Nato se ne svolsero 10 in contemporanea in tutto il paese mentre nel 1950 la parata fu inserita per la prima volta nel protocollo delle celebrazioni ufficiali attualmente il cerimoniale prevede la deposizione di una corona dall'oro al milite ignoto presso l'altare della patria e una parata militare alla presenza delle più alte cariche dello Stato attuali attuali presenza a colonna e attuali Nel 1976 la parata del 2 giugno non venne effettuata in seguito al disastroso terremoto che sconvolse il Friuli Notizie dell'epoca riportano La parata militare del 2 giugno quest'anno non si svolgerà lo ha comunicato il ministro della difesa Forlani con una nota ufficiale La decisione è stata presa a seguito della grave sciagura del Friuli e per far sì che i militari e i mezzi di trasporto al nord siano utilizzati per aiutare i terremotati anziché per sfilare avvia dei fori imperiali Celebreremo a fine settimana il 2 giugno perché la Repubblica nell'anniversario della sua nascita deve dare il segno della sua unità della sua vitalità della sua forza della serenità e della fiducia con cui sta affrontando e affronterà le sfide che ha davanti a sé tra le quali ora anche la sfida della nuova emergenza insorta con il sisma che ha colpito l'Emilia e altri luoghi lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 29 maggio a conclusione della visita a Gemona Dedicheremo le sobrie celebrazioni del 2 giugno ha aggiunto il Capo dello Stato al ricordo delle vittime del terremoto di questi giorni al dolore delle famiglie alla sofferenza delle popolazioni colpite le dedicheremo soprattutto a un rinnovato appello alla solidarietà nazionale e alla necessaria mobilitazione delle forze dello Stato e della società nella certezza che possa valere l'esempio e rinnovarsi l'esperienza della straordinaria prova di coraggio e di volontà di rinascita di cui è stato teatro il Friuli nel drammatico 1976 e chiudiamo il telegiornale con una comunicazione che riguarda Partinico domani 2 giugno che è una giornata di festa però i negozi resteranno aperti per l'intera giornata ci fermiamo qui non ci sono più aggiornamenti aggiornamenti che troverete sul nostro sito www.tv7 partinico.it buon prossimo momento di serata